Ehi ragazzina! Svega! Ralf, ma che cosa ti prende? Molla gli ormeggi e prendi lo spazzolino da denti, sorellina! Perché stiamo per fare bingo! Ralf, che cosa stai cercando di dire? Andiamo in internet! Cosa? Signore e signori, ecco a voi internet! Wow, fungo! Wow, è tanta roba! È la meraviglia più meravigliosa che abbia mai visto! Benvenuti alla barra di ricerca, cosa vi aiuto a trovare oggi? Ombrello, ombreggiare, ombrello! No, è l'arca, no, d'auto, nordstrom, recca, ergonomia, urban outfitters, urca... Direi che cerca di indovinare quello che vuoi dire! Il mio completamento automatico e aggressivello, un filo! Fammi provare, portami in un sito che sia super intenso e fuori di testa! Oh, ho trovato solo un risultato! Ah, ma dai, principesse personaggi dei cartoni! Boh! Wow! Ecco! Tu vieni con noi, ragazzina! Ciao! Ehi, ehi, ragazze, sono una principessa anch'io! Che razza di principessa sei tu? Ehi... Hai i capelli magici? No! Mane magiche? No! Gli animali ti parlano? No! Ti hanno avvelenata? No! Incantesimo? No! Rapita o fatta schiava? No, è tutto ok! Chiamo la polizia! Pensano tutti che i tuoi problemi siano spariti perché hai spuntato un uomo alto e possente? Sì! Ma come mai? È davvero una principessa! Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite! Ciao!